18 febbraio 1967 nasce roberto baggio è il calciatore italiano più famoso del mondo per tutti gli anni 90 l'attaccante italiano più prolifico dell'ultimo trentennio il fantasista di eccezionale livello tecnico e agonistico a dispetto del fisico minuto e dei tanti infortuni subiti alle ginocchia fragili buddista convinto è un uomo dal carattere mite ma fermo la sua carriera inizia 15 anni in c1 nel vicenza tre stagioni dopo è già in serie a alla fiorentina che lo paga 2 miliardi di lire ma prima ancora di iniziare l'avventura si ferma un anno infortunio ricostruzione dei legamenti del ginocchio destro il suo primo gol arriva il 10 maggio 1987 l'esordio in nazionale 15 mesi dopo contro l'olanda il 1990 è uno snodo viene ceduto alla juventus e si mette in luce ai mondiali in cui gli azzurri arrivano terzi pur giocando in casa nel 1993 a roberto baggio viene assegnato il pallone d'oro l'anno dopo i suoi cinque gol marcano l'ingresso dell'italia di a rigosacchi alla finale del mondiale usa persa ai rigori l'ultimo tiro alto sulla traversa è proprio il suo nel 1995 indossa la maglia del milan e nel 1997 a 30 anni considerato ormai una stella al tramonto viene ceduto al bologna e invece in rosso blu baggio rinasce segnando 22 reti in campionato e conquistandosi la terza partecipazione a un mondiale questa volta in francia in panchina come riserva di del piero firma due gol diventando l'unico calciatore italiano ad aver segnato in tre mondiali differenti dopo la rete numero 200 in serie a messa a segno nel nuovo secolo con i colori del brescia entra nell'olimpo dei goleador come piola nordald altafini totti e con il brescia gioca la sua ultima partita è il 16 maggio 2004 a 37 anni il divin codino porta il suo tocco magico e la sua proverbiale fantasia fuori dai campi di calcio